Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Kai, oggi vi farò vedere la potenza delle Valkyrie in Lega Campione Eccoci qua ragazzi, oggi siamo qua nel mio villaggio per farvi vedere la potenza delle Valkyrie livello 4 Allora le Valkyrie me lo sono fatto proprio come ultima truppa perché è proprio quella meno usata ma oggi vi dimostrerò che le Valkyrie valgono molto di più di quello che sembrano Allora nel video di oggi farò ben due attacchi, il primo lo farò tipo una specie di GoWiWi ma anziché mettere tanti maghi metto le Valkyrie E come avete visto sono in Lega Campione perciò non andrò ad attaccare delle pipette ma qualcosina di piuttosto Ok andiamo a fare la ricerca Ok ragazzi dobbiamo trovare qualcuno che abbia tanti tanti pigmone da darci e tante coppe Cerca, cerca, cerca dai, uno inattivo magari Mmm sto qua mistica veramente tanto ad attaccarlo Quasi quasi solamente per fottergli black, naturalmente qua ci saranno delle tesla a proteggere il nero Ma dato che noi siamo swag li fottiamo tutto Allora come iniziare? Innanzitutto non dobbiamo fare giretti alle Valkyrie perché sono esattamente come Pekka Vanno a farsi i giri? Allora Golem, Golem e mannaia Adesso commetto che c'è un'altra bomba, ecco lo sapevo Facciamo una piccola pulizia Mettiamo anche le streghe Ok Una bella furia qua Ok ok raga Salto salto Valkyrie 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 Re Regina Valkyrie Valkyrie Spacca spacca Entrate dentro, entrate dentro, entrate dentro Dai, veloci Geliamo anche qui Tan 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 Dai, dai che dovete saltare oltre, dai che dovete saltare oltre Ok non saltano, sono stupidi Ok hanno saltato, hanno saltato Grandi, 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 grandi Ok geliamo questa Pam, 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 pam Ok il Tunghole ce l'abbiamo Ok le coppie sono nostre Forse facciamo anche la seconda stella Dai prendi anche l'inferno Così non rompo Ok, preso l'inferno Abbiamo ancora l'abilità del Re della Regina Non so se riusciamo a fare tre stelle Penso proprio di no Perché la strega, sì la strega La Regina mi muore qua Per, daie, daie Non farti le benedire Ok, brava, brava Scappa via, scappa via No, non morire Mio dio Ok 3 3 2 1 Anche te sei più buoni Tunghole Bam, 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 bam Abilità Purtroppo non siamo riusciti a fare di tre stelle Ma l'importante Le abbiamo fottuto un bel po' di black Come avete visto Le avarchire in Lega Campione Sono veramente molto molto forti Anche per chi non sapesse usarli Praticamente Le ho lanciate un po' alla cazzo Come avete visto Sono riuscito a fare benissimo due stelle Ora andiamo a fare la stessa tecnica d'attacco Ma con l'ausilio dei pecca Non delle streghe Wow Il bonus cambia delle carte in tavola Ok ragazzi Siamo qua per il secondo attacco Allora Il primo attacco è stato veramente molto molto facile Come abbiamo visto Siamo riusciti a fare due stelle Veramente molto easy Ora che abbiamo i pecca Al posto delle streghe Andremo ad attaccare uno Totalmente maxato Non ci baseremo più Se a risorse o a coppe Perciò indifferente Vogliamo proprio testare la potenza Di Steve Archie A livello 4 Ok partiamo L'effetto della webcam Che girava su se stessa Sembra per nascondere la mia dislessia Dettaglio a parte E continuiamo con il video Ok ragazzi Abbiamo trovato qualcuno Ad attaccare Purtroppo non sono riuscito A trovare quei là Maxati con i muri all'11 Cioè sono spariti Non sono più in lega Cioè non sono più a 3.300 coppe Insomma sono saliti Verso i 4.000 Allora Mistica Veramente molto Attaccare questo nostro amico Dato che ha 7.000 di nero Allora naturalmente qua Ci sono due uomini giganti Come fare Scattare Questo è il punto Allora Golemino Golemino qua Un altro qua Molto bene Bella furietta Così entrate Golemini Dove state andando No Non andate di là Dai Bravi Bravi Entrate Entrate Dai Valkyrie Dai Valkyrie Re Regina Valkyrie Valkyrie Pecca Mamma mia Pecca Destroyed Destroyed Mamma mia Devasto Ok Ok Ora c'è No No Cattivi Sti Arceri Cattivi Sti Arceri Non mi piacciono Ok Benedici Benedici Dai Re Dove sono le Valkyrie No Dove state andando Fermo Non distruggere No Inferno singola No Singola Come ti odio Dai Vabbè Il Town Hall È mio Praticamente E le Valkyrie Stanno Dove sono le Valkyrie Non le vedo più Valkyrie Valkyrie Dove siete Nascoste Vabbè Il Pecca Sta facendo No Oh mio Dio Mi sono distrato Un attimo Non devo farmi bene Dire La Regina Ok Ho ancora Due Valkyrie Qua L'ho al 50% E penso che ho fottuto un po' di nero L'importante è nero perché devo farmi la Regina al minimo 35 per la scalata Dai Ok Il Pecca ormai non fanno più niente Ho preso la seconda stella Possiamo fare resa Allora Piccolo riassunto di oggi Le Valkyrie sono veramente devastanti Fanno il disastro in Lega Campione Come avete visto ho fottuto un bel po' di nero Allora Torniamo a casa Vi devo far vedere una cosa molto veloce Allora ragazzi Se andate su mio clan E andate sul locale Allora Attualmente il mio clan è classificato come 39esimo in tutta Italia E' bello che siamo in pre-scalata Nel senso che chi vuole sale un po' Perciò praticamente nessuno sta dando il massimo E dal Vediamo da quando è che iniziamo la scalata Dal 6 luglio Iniziamo la scalata Perciò tentiamo i primi 3 Primi 4 in Italia Perciò spero che farete il tifo per noi E non per questo clan che vi andrò a far vedere Ecco non fate il tifo per io Allora ragazzi questo era tutto per il video oggi Come al solito se vi è piaciuto lasciatemi un like Un commento E ricordatevi di seguirmi su Facebook E su Instagram Ok è veramente tutto E noi ci vediamo